Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come ogni inizio settimana facciamo un po' il recap, cerchiamo un po' di tirare le fila del discorso dove siamo arrivati, a che punto siamo, a che cosa ci dobbiamo aspettare. Prima però ovviamente, perché la pubblicità serve, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like e dopo un bel commento. Se poi volete sostenermi economicamente potete scaricare l'app di numero 10, che poi vedete che i soldini io li spendo solo per fare video, anche perché non è che ne guadagno, sai che cosa? Ma avete detto, compro il filtro, ho comprato il filtro, ho comprato l'asta per avere il microfono più vicino alla bocca, insomma piccola accortezza però sperando di riuscire poi a fare video migliori anche per l'audio e quant'altro. Ora, andiamo avanti, il discorso che voglio aprire oggi è ovviamente legato al mercato perché di che cosa vogliamo parlare se no, però in una maniera un po' differente, ossia l'avrete notato anche voi, ci sono mille voci in questo momento, alcune poco attendibili, altre tutto sommato comprensibili. Volevo fare una veloce ripassata settore per settore per capire un po' quali sono i punti cruciali e logicamente poi cercare di capire che cosa ci dobbiamo aspettare nel breve, nel brevissimo e cosa probabilmente non ci dobbiamo proprio aspettare. Ora, sulla porta c'è questa situazione di carne secca, mi pare evidente che lo sbologneremo in prestito a qualcuno e tutto è rimandato, meglio così non poniamoci problemi. Situazione difesa, è in crescita il nome di Ocoli e qualcuno paventa l'ipotesi di uno switch fuori Ocoli, dentro Ocoli, fuori Jim City. Ora, per chi mi segue sa che questa cosa io la punirei con il 41 bis perché per me Jim City è inamovibile, non lo so, mi pare comunque, al netto degli scherzi, dietro mi pare non stiano facendo grandi ragionamenti, ma anche questa roba qua l'avevamo già anticipata, l'Atalanta quei golli li prende, punto, 45-46 li prendi quei golli, non c'è niente da fare, non c'è niente da limare ed è per questo che dietro tutto sommato non sono poi così preoccupati. Situazione esterna, è totalmente immobile, è abbastanza chiaro che l'Atalanta oramai mette sul mercato chiunque, mette il mercato Atebor, mette il mercato Mele, perché se non vendi non puoi rinforzarti. Poi leggo, per esempio, potenzialmente nomi come quello di Nandez e come quello di Zappa e dico, vabbè, a questo punto io quasi quasi mi terrei sia Attebor che Mele se devo andare a prendere gente del genere. Però diciamo che il mercato sugli esterni è molto più difficoltoso di quello che probabilmente ci si aspettava e ad oggi grandi movimenti non ce ne sono. La tre quarti è sostanzialmente bloccata fin quando Ilicic e Mirancic non partono, però anche lì è abbastanza scontato secondo me che con l'uscita di due per forza di cose qualcuno deve prendere, perché potenzialmente in un 3-4-3, in un 3-4-3 davanti c'è mica tanta roba come attaccanti esterni. Sta crescendo sempre di più questa voce su Pasalic, che io trovo incredibile. Anche solo che a qualcuno si è abballenato l'idea di ascoltare un'offerta per Pasalic per me è una follia, un giocatore che non andrebbe mai venduto. E tra l'altro io trovo che in questa squadra abbia una collocazione incredibile, perché adesso che Gasperini si è convinto col 3-4-1-2, Pasalic sotto punta è meraviglioso. Io veramente non ci andrei neanche proprio a pensare. Io mi immagino Pasalic dietro a Bugà e Zapata. State lì e non toccate niente, per l'amor del cielo. Però anche lì, insomma, l'avete capito anche voi, fin quando non si riescono a liberare certi slot la situazione diventa praticamente impraticabile. E poi c'è il discorso punte. Il discorso punte è che da un lato c'è Stoppina Monti che lo sto bramando così tanto oramai che ho paura della delusione, che si riveli insaudati qualsiasi, ok? Cioè, ho paura che quando le cose le soffri così, poi, boh, speriamo che tutta stamenata venga ripagata. Però oggi, per esempio, c'è un bel articolo sulle Codberg di Spini che dice, insomma, guardate che l'Atalanta, Zapata, Muri e il Pinamonti non li tiene tutti e tre. Ora, se la Roma non avesse preso Dybala, questo articolo non mi avrebbe mosso nemmeno un briciolo del mio cuoricino. Perché dice, vabbè, vedi Muriel. Tanto, anche a Clusone, Boga è stato usato praticamente sempre come seconda punta. Sicuramente Boga non è paragonabile al miglior Muriel, ma il miglior Muriel non è che c'è sempre. Quindi, in termini di pesi, perdi qualcosina, ma non tantissimo. Però adesso che la Roma si è presa Dybala, la paura è che si facciano riflessioni diverse. Cioè, io non ho capito, non dall'articolo, perché l'articolo in verità riprende una sensazione e che ho sentito da più persone che seguono l'Atalanta e seguono comunque, diciamo, l'ambiente del calcio mercato. Quindi non è che quello si è inventato, anzi ci mancherebbe altro, un gran professionista. Però non vorrei che si arrivasse a pensare a una ipotetica cessione di Zapata, perché Muriel non ha mercato. Contando che le notizie sull'interessamento del Newcastle non mancano, contando che settimana scorsa i giornali spagnoli riportavano questa roba per cui noi stavamo seguendo Sadiq, che Dio non voglia, ma no. Mi ha un po' smosso un po' di inquietudine, se devo essere sincero. Non ci resta che attendere su quel punto lì, però l'impressione è che stiamo andando, cioè, siamo nel pantano e stiamo facendo un po' fatica a venirne fuori. È vero, come mi ha fatto osservare qualcuno, che tutte le big stanno spendendo la grossa fetta per top player, quindi c'è tutta la seconda fascia di giocatori che fra una settimana se li può comprare praticamente solo l'Atalanta. Diciamo i giocatori sulla fascia 20 milioni, 22 milioni. È altrettanto vero che io non ho capito, non so dove potrebbe andare a prenderli, dove potrebbe andare a metterli, però l'impressione in questo momento è che da un lato ci sia questa pista, Pinamonti, che si vuole chiudere e poi sia tutto rinviato al momento delle cessioni. Ci sono belle notizie sui giovani, stando a quanto io ho raccolto e a quanto vi è stato riferito, tantissimi giovani stanno ottenendo consensi molto, molto positivi e potenzialmente potrebbero restare tutti e la loro permanenza è data solo ed esclusivamente dai movimenti di mercato alternativi. Cioè tutti i giocatori sono ritenuti buoni per la prima squadra, ovviamente se riesco a prendere, faccio un esempio, un esterno forte, non tengo sia Ruggeri che Zortea, però potenzialmente quasi tutti i giocatori hanno raccolto gran soddisfazione a parte Sissè che ovviamente ha meno esperienza di tutti gli altri anche a livello di calcio di un certo livello, quindi verrà mandato in prestito, però non è una bocciatura assolutamente. Quindi da lì è sicuramente una cosa positiva, però i giovani vanno poi amalgamati con qualcosa di più, però oramai l'impressione è che bisognerà attendere parecchio per vedere i movimenti. L'impressione davvero è che l'Atalanta ci sia sul pezzo, ma che ad oggi le cifre siano fuori dalla nostra portata e che quindi aspettiamo magari ridosso del campionato per andare a tamponare quelle situazioni, anche perché ripeto, quello che offre il mercato in questo momento effettivamente è poca, poca, poca roba. Quindi meglio stare fermi e non sprecarli che farsi prendere dalla foga e portare a casa gente che effettivamente sicuramente la squadra non te la migliora. Speriamo nei prossimi giorni di sentirci con notizie un po' più succose, però questi video vanno fatti perché altrimenti domani succede una roba, dobbiamo ripartire da capo e venne fuori un video chilometrico. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'affetto e per il supporto, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!